I carabinieri hanno avviato indagini su una presunta truffa aggravata all'Inps al centro dell'inchiesta e numerose aziende del distretto di Paternò che nel biennio 2017-2018 avrebbero effettuato l'assunzione fittizia di migliaia di braccianti con un ingente danno alle casse dello Stato. Grave incidente oggi intorno alle 13 sull'autostrada 19 in direzione Catania a scontrarsi una Ford Eco e un auto articolato, morta una donna, tre persone risultano ferite. Confiscate società e imprese immobili per 12 milioni a Giuseppe Guglielmino, considerato organico al clan Cappello, l'imprenditore operava nel settore dei rifiuti. A Paternò crescono i rifiuti sparsi per strada e i cittadini lamentano una scarsa informazione. Un'azienda grumicola è stata smascherata dai carabinieri e in realtà produceva canapa indiana tra gli arrestati e sequestrati due quintali di marijuana. A Catania la polizia ha arrestato un impiegato postale infedele che con due complici ha raggirato un anziano dopo avergli carpito il pin della carta e gli hanno sottratto a più riprese la somma complessiva. Nell'ambito della giornata di mobilitazione nazionale, domani a Palazzo Bianchi ad Adrano alle 18 avrà luogo un incontro sul tema Stop 5G. Interverranno vari esperti, sentiamo Giuseppe Caruso che ha promosso ad Adrano la manifestazione contro il 5G. Edizione della sera per Ciac News che apriamo con l'importante operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Paternò del Comando Provinciale di Catania su delega della Procura della Repubblica Etnea. Parliamo della presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps. Al centro dell'inchiesta numerose aziende di Paternò che nel biennio 2017-2018 avrebbero effettuato l'assunzione fittizia di migliaia di braccianti con un ingente danno alle casse dello Stato. Sentiamo tutti i particolari nel primo dei nostri servizi. Una maxitruffa perpetrata ai danni dell'Inps da parte di numerose aziende del comprensorio. Su queste ipotesi si stanno muovendo le indagini condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania e della Compagnia di Paternò su delega della Procura della Repubblica Catanese. Indagini su una presunta truffa aggravata all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L'inchiesta punterebbe a scoperchiare un vero e proprio alveare di illegalità. Il sospetto da cui scaturiscono le indagini è che numerose aziende del settore agricolo del distretto di Paternò nella biennio 2017-2018 avrebbero effettuato l'assunzione fittizia di migliaia di dipendenti e nello specifico di braccianti con un ingente danno alle casse dello Stato. I militari si sono recati nella sede dell'Inps di Paternò in Viale dei Platani per acquisire i fascicoli di ogni posizione sospetta. Magistrati e carabinieri passeranno al setaccio i documenti sulle numerose dichiarazioni aziendali attestanti l'impiego secondo l'accusa mai avvenuto di operai al fine di consentire l'indebita percezione di indennità di disoccupazione, malattia, assegno nucleofamiliare e maternità da parte di migliaia di braccianti agricoli compiacenti. Una truffa enorme ai danni dell'Inps e dunque dello Stato che se confermata assumerebbe dimensioni davvero incredibili. Basti pensare che Paternò è tra i comuni siciliani in cui risulta uno dei più alti numeri di braccianti agricoli in tutta la regione. Al momento si attendono le conclusioni delle indagini ed eventuali risvolti e se la truffa dovesse essere confermata con tanto di irresponsabili. Una dichiarazione è però giunta dalla sindaco di Paternò Nino Naso che ha dichiarato faccio un plauso alla magistratura e alle forze dell'ordine per l'importante operazione di controllo che viene effettuata sul nostro territorio come istituzione comunale. Continua Naso non possiamo non difendere le imprese e i braccianti che si spendono ogni giorno rispettando la legge e la dignità del lavoro. Ci spostiamo sull'autostrada 19 Catania a Palermo dove oggi intorno alle 13 purtroppo dobbiamo registrare un gravissimo incidente che è avvenuto proprio sull'autostrada in direzione Catania a scontrarsi una Ford Eco ed un auto articolato a perdere la vita una donna di 75 anni, tre persone risultano ferite. Uno scontro violentissimo fra due mezzi sull'autostrada 19 Catania a Palermo ha causato oggi intorno alle 13 la morte di una persona e il ferimento grave di tre persone. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo di Catena Nuova sulla 19 in direzione Catania a scontrarsi un SUV Ford Eco ed un auto articolato a perdere la vita nell'impatto una signora di 75 anni mentre due feriti risultano attualmente ricoverati al Cannizzaro di Catania ed una terza persona all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti ed è stata deviata sulla strada statale 192. Sul posto i vigili del fuoco, diverse ambulanze e la polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente. Al momento pare che l'auto articolato abbia impattato con il SUV fermo in prossimità della corsia di emergenza. Annesso ancora la cronaca ma con la giudiziaria confiscate società imprese immobili per 12 milioni di euro a Giuseppe Guiglielmino considerato organico al clan Cappello l'imprenditore operava nel settore dei rifiuti. Il Tribunale di Catania ha disposto nei confronti dell'imprenditore pregiudicato Giuseppe Guiglielmino la confisca di numerosi beni immobili, mobili registrati, società di capitali, imprese individuali e rapporti finanziari intestati ai familiari più vicini a terzi e stranei ma tutti riconducibili all'interessato. I beni confiscati erano stati già oggetto di sequestro e di prevenzione seguito dalla Questura nell'agosto 2017. Secondo l'accusa, Guiglielmino, operante nel settore dei rifiuti, è chiaramente organico al clan mafioso Cappello. Lo stesso con le sue imprese aveva ottenuto appalti in diversi comuni siciliani, nonché nel territorio campano e calabro grazie all'appoggio del clan Cappello che poteva a sua volta contare sull'interessamento delle famiglie operanti in quei territori. Risultano confiscati la totalità delle quote ed intero patrimonio aziendale della società geoambiente SRL con sede legale a Belpasso ed ancora l'impresa individuale consulting business di Guiglielmino con sede legale a San Gregorio la totalità delle quote ed intero patrimonio aziendale della società clean up SRL con sede legale a Motta Sant'Anastasia la totalità delle quote ed intero patrimonio aziendale della società ecologistica SRL con sede ad ACI Sant'Antonio la totalità delle quote ed intero patrimonio aziendale della società ecobusiness SRL con sede a Siracusa e sede secondaria a Belpasso ed ancora la totalità delle quote ed intero patrimonio aziendale della società work uniforme SRL con sede legale a Catania. Oltre alla patrimonio aziendale, Guiglielmino aveva investito anche in immobili il valore complessivo dei beni sequestrati stimato in circa 12 milioni di euro. Continuiamo a parlare di rifiuti ma per motivazioni decisamente diverse andiamo a Paternò dove crescono i rifiuti sparsi per strada i cittadini lamentano una scarsa informazione sentiamo di più La situazione diventa sempre più grave sul fronte rifiuti a Paternò i cumuli di immondizia continuano a crescere ai margini delle sedi stradali dal centro alla periferia da quando l'amministrazione comunale con un annuncio a sorpresa la scorsa settimana ha annunciato la decisione di tornare ad avviare il progetto Toleranza Zero contro quanti non rispettano la raccolta differenziata e a non rispettare il calendario sono davvero in tanti visto i cumuli che crescono per non parlare di quanti in barba ad ogni regola decidono di disfarsi dei rifiuti abbandonando i sacchetti in periferia nelle zone di ingresso o di uscita dalla città ma è tutta colpa dei cittadini? Non proprio a distanza di una settimana dall'avvio della fase di controllo con migliaia di bollini rossi affissi sulle busti ad indicare l'errato conferimento i cittadini lamentano una scarsa ma anche un'errata informazione effettivamente l'ultima attività di informazione in città risale al periodo in cui a gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti era la società Atosimeto Ambiente con l'attività condotta dai volontari dell'Apo e se dall'associazione rifiuti zero di recente solo per il quartiere di zona Ardizzone che poco più di un anno fa ha visto sparire Cassonetti per l'indifferenziato si è agito con una nuova attività di informazione grazie alla distribuzione di nuovi fogli informativi sempre ad opera dei volontari APAS a questo si aggiunge una sola campagna informativa attraverso i mass media poi più nulla e pensare che il comune ha i fondi per l'attività di informazione somme tutte non spese per questa finalità a questo si aggiunge il fatto che vi sono notizie discordanti su come trattare alcuni tipi di rifiuto con il risultato di far entrare in confusione il cittadino e i rifiuti crescono restano comprensibili perché si lascino i sacchetti per strada in queste condizioni a farne le spese e l'intera città con l'aggravante che trovandosi in piena estate crescono anche i rischi per la presenza di ratti e insetti vari oltre a determinare un concreto danno ambientale hanno preso il via oggi i lavori di ampliamento dell'impianto di distribuzione della rete gas metano in parte di via Scala Vecchia e Viale dell'Unità d'Italia paternò l'intervento richiesto dai residenti e il risultato della sinergia tra le istituzioni e la società a seguire la vicenda anche i consiglieri comunali Roberto Faranda, Rosanna Laurietto, Nino Cunzolo la società del gas valutando la richiesta come fattibile ed economicamente sostenibile ha fatto partire l'intervento e questa mattina all'avvio dei lavori erano presenti i consiglieri comunali, il sindaco Nino Naso l'assessore all'urbanistica Ezio Mannino e l'assessore ai lavori pubblici Luigi Gulisano adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità la nostra informazione torna subito dopo Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza realizzando impianti fotovoltaici sia di grandi che di piccole dimensioni il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie dall'installazione all'assistenza post vendita fino alla manutenzione affidati a personale esperto scegli Energreen Power da Energreen Power offerta di primavera per i primi 20 contratti chiusi entro il 31 marzo 2019 impianto da 3 kilowatt chiave in mano a 3.000 euro più IVA 10% per un totale chiave in mano tutto incluso di 3.300 euro visto il successo avuto con la promozione dei 3 kilowatt l'azienda ha deciso di estendere l'offerta proponendo in alternativa un impianto da 6 kilowatt a 6.000 euro più IVA 10% per un totale di 6.600 euro per installazioni standard per info e sopralluoghi chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408 Energreen Power contrada a Tre Fontane Paternò visita il nostro sito internet www.energreenpower.it rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale una tecnica innovativa applicata all'ospedale Garibaldi di Catania ha permesso di salvare una bimba di 8 anni consentendo di rimuovere un tumore intracranico gigante con la preservazione di tutte le strutture vitali l'intervento obbligatorio perché l'ulteriore crescita avrebbe causato altri deficit neurologici sino al decesso della piccola è stato pubblicato sulla rivista internazionale World Neurosurgery della Elsevier in particolare hanno spiegato i neuroradiologi hanno provveduto alla embolizzazione selettiva intravascolare delle arterie del tumore utilizzando particolari particelle del diametro di 300-500 micro nel giorno dopo i neurochirurghi facilitati dall'assenza di sanguinamento hanno rimosso il tumore un'azienda grumicola è stata smascherata dai carabinieri in realtà produceva canapa indiana tra gli arrestati sequestrati due quintali di marijuana i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato tre persone due di Ramacca e la terzo di Mineo con l'accusa di produzione illecita di sostanze stupefacenti in manette sono finiti la 31enne Alessandro Fatuzzo il 37enne Daniele Aquilino ed un trentenne incensurato l'attività info-investigativa svolta dagli uomini della squadra lupide militari dell'arma con lunghi servizi di osservazione e pedinamento ha consentito di scoprire come un'azienda agrumicola attività presumibilmente di facciata ubicata e incontrata fino a Chiara a Belpasso di fatto operasse nella qualità di impresa destinata alla produzione e trasformazione di canapa indiana da immettere successivamente nel mercato al dettaglio della provincia etnea la proprietà estesa per circa 10 ettari era composta da un agrumeto e da tre immobili di cui quello posto al centro era utilizzato come deposito di attrezzatura agricola quelli alliaterali adibiti a stalla per cavalli e canile con un annesso pollaio l'intera aria era protetta da un sistema di videosorveglianza di ultima generazione i carabinieri dopo aver centurato l'intera zona ed organizzato un dispositivo di intervento con la certezza che i tre uomini erano all'interno dei caseggiati hanno fatto scattare il blitz che ha consentito di verificare come diverse porzioni degli immobili erano stati destinati a locali di stoccaggio essiccazione e imballaggio della materia prima dopo la trasformazione in prodotto finito complessivamente i carabinieri hanno sequestrato circa due quintali di marijuana valore di mercato circa 1 milione e 600 mila euro nonché tutto il materiale utilizzato per la conduzione dell'attività illecita ci spostiamo a Catania dove la polizia ha arrestato un impiegato postale infedele che con due complici ha raggirato un anziano dopo avergli carpito il pin della carta infatti hanno sottratto a più riprese l'intera somma sentiamo un impiegato postale infedele con l'ausilio di due complici ha raggirato un anziano al quale è stata sottratta la somma complessiva di 20 mila euro è accaduta a Catania ma l'imbroglie è stato scoperto dalla polizia postale che ha arrestato tre persone con l'accusa in concorso di truffa aggravata utilizzo illecito di carte di pagamento e riciclaggio si tratta di Nunzio San Filippo di 35 anni Alessandro Di Mauro di 53 e Franco D'Agostino di 37 anni le indagini svolte dalla polizia postale di Catania sono scaturite dalla denuncia di un anziano al quale sono stati prelevati dal suo conto banco posta oltre 20 mila euro in varie operazioni l'uomo era stato ingannato da un impiegato infedele di poste italiane a cui si era rivolto per assistenza l'impiegato era riuscito a impossessarsi dei dati della card e del pin della vittima poi con due complici sono stati effettuati numerosi prelievi mediante banco in vari sportelli di Catania le indagini della polizia postale che si sono avvalse della piena collaborazione da parte delle strutture di tutela di poste italiane mediante acquisizione delle immagini digitali delle videoriprese ricostruzione del flusso del denaro gli altri accertamenti e appostamenti hanno consentito di ricostruire le condotte degli arrestati per i quali sono stati disposti i domiciliari l'autorità giudiziaria ha disposto inoltre il sequestro preventivo di somme il confronto tra maggioranza ed opposizione ha paternò il tema della nuova puntata del fatto in onda da stasera ospiti in studio il capogruppo in consiglio comunale di Diventerà Bellissima Antony Di Stefano e il vice sindaco Ignazio Mannino nell'ambito della giornata di mobilitazione nazionale domani a Palazzo Bianchi ad Adrano alle 18 avrà luogo un incontro sul tema Stop 5G interverranno vari esperti sentiamo appunto Giuseppe Caruso che ha promosso ad Adrano la giornata contro il 5G sentiamo perché domani alle 18 a Palazzo Bianchi ad Adrano avrà luogo un incontro sul tema Stop 5G un incontro che è stato promosso nell'ambito della giornata nazionale di mobilitazione contro il 5G ad organizzare ad Adrano è stato Giuseppe Caruso che ci spiega appunto le finalità di questo incontro e i relatori che saranno presenti domani a Adrano Stop 5G è una mobilitazione nazionale che parte dal principio che il 5G fa male alla salute abbiamo già avuto diversi riscontri a livello internazionale che i dati forniti dalle compagnie telefoniche sono stati falsati e già abbiamo avuto riscontro che per esempio la regione di Bruxelles ha vietato il 5G in tutta questa parte del Belgio e come tale vogliamo informare i cittadini dei pericoli che il 5G comporta per la salute sia degli esseri umani che degli animali ma addirittura anche delle piante perché una delle cose che causa il 5G sarà che saranno tagliati molti alberi oltre che saranno triplicate le antenne ripetitori quindi avremo il dottor Marinelli che è un ricercatore già ricercatore del CNR che attualmente fa parte del gruppo interuniversitario della Sapienza di Roma nonché ricercatore indipendente che ha dimostrato la falsità dei dati forniti quindi avremo anche il dottore Russo che è l'inventore del sistema di conduzione della telefonia mobile che invece di usare le onde elettromagnetiche che fanno male usa la luce LED quindi usa un sistema assolutamente a impatto zero quindi ci sarà un contributo da parte del professor Sciacchitano che è un primario che fa parte dell'organizzazione dei medici per l'ambiente oltre alla testimonianza della dottoressa Spano che è un elettrosensibile perché le onde elettromagnetiche ormai hanno creato una nuova categoria di malati che sono gli elettrosensibili che veramente hanno enormi e gravi problemi nella loro vita quotidiana quindi speriamo che questo contributo servirà a mobilitare la gente e a dire no al 5G Con questa notizia si conclude il lettore del giornale della sera Ciac News riprenderà domani alle 13.30 Grazie ancora per averci seguito e a voi buon proseguimento di serata Grazie ancora per averci seguito e a voi buon proseguimento di serata